Dal punto di vista della stampa internazionale la settimana si è contrassegnata con un grande dibattito sul tema della inflazione, della crescita. La BCE ad esempio continua ad alzare i tassi in interesse come fa la Federal Reserve guidata dalla Gellen negli Stati Uniti. Nel primo trimestre del 2023 la crescita cinese si attesta intorno al 4-8-5%. Lo stesso Romano Prodi in un'editoriale continua a rilevare come ci sia ancora in corso una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, mentre invece i loro scambi continuano ad aumentare, sottolineando appunto una forte contraddizione tra le grandi potenze economiche e della guerra che sta globalmente attraversando il pianeta. Il tema di fondo è ancora e sempre quello come facciamo a superare l'inquinamento da CO2 e quando lo faremo, quando cioè gli Stati organizzeranno finalmente una COP di qualunque numero che sia davvero efficace sul piano della concretezza e dei grandi progetti. D'altro canto l'ONU attraverso il suo servizio generale Gutierrez il 21 aprile scorso in occasione della giornata della Terra ha ribadito, ha ripetuto che la situazione sostanzialmente difficile, complicata, complessa, il che genererà ovviamente movimenti di popoli verso nord. Qui si apre l'altro grande tema che invece ha attraversato il dibattito nostrano, il grande tema delle migrazioni. Il decreto Cutro è stato approvato in Parlamento, che cosa porterà non si capisce se non una nuova stretta sulle ONG che fanno il loro mestiere di salvataggio in mare, quello che rilevano diciamo le grandi agenzie internazionali è che la siccità, l'aridità, l'inaridimento di intere porzioni del nostro pianeta stabilirà forse dei record dal punto di vista proprio dello spostamento di masse di persone. Non è un caso che una delle polemiche che si è sollevate in questi giorni è stata quella trainata dalle parole decisamente fuori luogo da parte di un ministro della Repubblica e cognato dalla Presidente del Consiglio, e cioè di Francesco Rollobrigi, l'attuale titolare del di Castero dell'Agricoltura, e il quale ha sottolineato che non ci possiamo adattare all'idea della sostituzione etnica. Ora, francamente, la sostituzione etnica fa parte dell'ideologia suprematista bianca, di derivazione nordamericana. Ora, parlare di sostituzione etnica, in questo momento in cui le grandi agenzie internazionali sottopongono all'attenzione dei grandi paesi sviluppati del nord, la prospettiva di un inarghimento generale, diciamo, dei paesi del sud del mondo, evidentemente non ci azzecca assolutamente nulla, anzi, è un'ulteriore provocazione, così come è stata una provocazione da parte della seconda carica dello Stato, Stato, cioè la russa, che è tornato prepotentamente sul tema del 25 aprile, sottolineando che l'antifascismo non è scritto in Costituzione, bontà sua. Ora, non c'è bisogno di scrivere antifascismo in Costituzione per dire che la Costituzione deriva dalla lotta partigiana e dalla resistenza, e dunque dal processo di liberazione. anzi, sul tema della liberazione ci fermerò un attimo come parola che graffia nel prossimo mercoledì. La liberazione è stata questa, l'uscita dal fascismo era la possibilità di costruire una Costituzione che mettesse tra i paletti della democrazia proprio l'antifascismo, e cioè il nucleo storico che si oppone democraticamente a ogni forma di autoritarismo. Questo è l'antifascismo. Se la russa non lo capisce, bontà sua, problemi suoi, ma non è il caso che la seconda carica dello Stato stabilisca, diciamo così, dei criteri di lettura della Costituzione che non sono corretti. Dall'altra parte, la prima carica dello Stato, Mattarella, invece, decide di recarsi presso i luoghi della resistenza. Come si vede, diciamo, un'antitesi fortissima tra il Presidente della Repubblica e il Presidente del Senato, tra un'idea della liberazione, della resistenza e della Costituzione fortemente venata dall'antifascismo e da un'altra idea della Costituzione che invece nega il valore dell'antifascismo, perfino come parola fondante e fondativa, perfino come mito fondativo di un'intera comunità nazionale. Spetta a noi di entrare nel vivo di questo dibattito e di segnalare, a partire dai processi di educazione scolastica nelle università, e segnalare che la cifra politica, ideologica, culturale, storica di questa comunità nazionale, per dire meglio, è l'antifascismo. Se non si capisce questo filo e se non si conosce che questo filo sottende l'intera Costituzione democratica, probabilmente è meglio stare senti zitti, è meglio non parlare. Grazie.